Adricesta ancora una volta conferma il proprio valore, questa volta ancora di più in un momento difficile di pandemia farà vedere la propria vicinanza concreta alle istituzioni, a partire dagli ospedali di Pescara e di Chiedi, passando per i Vigili del Fuoco, passando per altre associazioni e strutture che hanno bisogno ancora di più in questo periodo di un aiuto concreto. Da anni ormai Adricesta dà una evidenza della propria attività e noi nel nostro piccolo, sia in qualità di cittadini, ma ancora di più di consiglieri, in questo caso i consiglieri regionali, di uomini delle istituzioni, dobbiamo essere vicini e fare tutto il possibile, quindi una giornata importante, ma sono certo che ne seguiranno altre, specialmente in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.